Stop allo splittamento dell'IVA, lo sdoppiamento del pagamento della tassa. Lo chiede l'Aforp, il sindacato pugliese dei fornitori sanitari. Nel silenzio assordante della politica, ritiene l'Aforp, è scattata da gennaio la novità introdotta dal governo. L'IVA, fatturata dalle aziende e alle amministrazioni pubbliche, in pratica, finirà nelle casse dello Stato e non più nella contabilità delle imprese. Un'autentica mazzata che rischia di succhiare a micro e piccole aziende liquidità per un miliardo e mezzo di euro, secondo un calcolo effettuato dalla CGA di Mestre a livello nazionale. A rischio denuncia l'Aforp posti di lavoro e la sopravvivenza stessa del sistema, già stressato dall'assenza di liquidità e di sostegno delle banche. Oltre i tagli e ritardati i pagamenti, non ottenere per i prossimi mesi la liquidità dell'IVA comporta sofferenze aggiunte. Sotto questo punto di vista, qual è il rischio concreto per il sistema pugliese sanitario? Il rischio è che in una regione dove ancora si registra un ritardato pagamento, se nel primo semestre dovesse non giungere il valore 22% dell'IVA, dovendo far fronte al pagamento di stipendi, contributi e fiscalità, senza ulteriori interventi nel mondo del credito e senza un chiarimento da parte del Ministro dell'Economia, ci ritroveremo nell'impossibilità di onorare tutti gli impegni.